Notiziario Italo-Latino-Americano, un'iniziativa Rea International, diretto da Rainero Schembri. Con l'obiettivo di informare su ciò che avviene nel mondo degli italiani in Italia e in America Latina. Ma passiamo subito alle notizie. Chi vi parla è Laura Diomede. La Costa Crociere celebra i 150 anni dell'emigrazione italiana in Brasile. L'opinione di Fabio Porta. E' stata definita la crociera delle radici. Parliamo del viaggio in nave che in 22 giorni ripercorrerà dal porto di Genova a quello di Santos, cioè la principale rotta di piroscafi e transatlantici, che a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento portarono in Brasile quello che oggi è diventato il maggiore contingente di italo-discendenti al mondo. Per Fabio Porta, parlamentare italiano, eletto nella circoscrizione Sud America, si tratta di un'immersione nelle radici che annoderà nuovamente un filo ideale tra le due capitali dell'emigrazione, Genova e Santos, città che da qualche mese sono legate da un gemellaggio nato proprio all'insegna di una storia che si intende far rivivere e rinnovare con iniziative di questo tipo, capaci di rilanciare in maniera nuova e produttiva un rapporto naturale e profondo. La scure di Milei colpisce ancora, ora tocca alle donne. Il nuovo presidente dell'Argentina, Javier Milei, considerato un ultra-liberista, non si ferma nella sua politica di risanamento del bilancio pubblico, attuata con drastici tagli che praticamente stanno cancellando diritti e protezioni sociali. L'ultima vittima è il mondo femminile, che ha visto sciogliere il Ministero delle Donne, trasformato in un semplice sottosegretariato. Questa decisione, oltre a cancellare 500 posti di lavoro, ha eliminato, secondo molte femministe, un'importante struttura di prevenzione della violenza di genere. E pensare che in Argentina, ogni 35 ore, secondo il giornale El País, avviene un femminicidio. Complessivamente nel 2023, ben 272 persone sono morte a causa della violenza di genere. Gabriela Malusà, vi spiego perché il 3 giugno si celebra in Argentina il giorno dell'immigrante italiano. Il 3 giugno l'Argentina ha celebrato il giorno dell'immigrante italiano. La data coincide con la nascita del grande eroe argentino Manuel Belgrano, di origine ligure. È solo una coincidenza? Assolutamente no, spiega a Rea International Gabriela Malusà, direttrice del programma Buongiorno Italia, di radio Citrica di Buenos Aires. Belgrano sostiene la Malusà, oltre ad essere di origine ligure, è noto per il suo ruolo fondamentale nell'indipendenza argentina e per la creazione della bandiera nazionale. È anche un simbolo dell'influenza italiana nella storia e nella cultura argentina. Si tratta di una bella e significativa ricorrenza, che riconosce il prezioso contributo dei tanti italiani che hanno scelto questa terra come loro nuova patria, portando con sé la loro lingua, le loro tradizioni, l'etica e la cultura del lavoro. Per la cronaca, durante il giorno dell'immigrante italiano, si svolgono in Argentina numerose attività ed eventi che celebrano proprio l'eredità italiana. Un nuovo disastro ambientale colpisce il Brasile. Dopo le tragedie e delle alluvioni che hanno colpito lo stato brasiliano del Rio Grande do Sul, ora è la volta del Pantanal, la zona umida tropicale, una delle regioni più estese e con la maggiore biodiversità del mondo. In molte parti del territorio stanno scoppiando con crescente intensità incendi devastanti. Solo nei primi sei mesi dell'anno i roghi sono aumentati del 974%, secondo l'autorevole giornale Foglia de San Paolo. Per contrastare questa situazione, il presidente Ignazio Lula de Silva ha siglato una serie di accordi con i governatori degli stati del Pantanal e dell'Amazzonia, allo scopo di aumentare il numero dei pompieri, nonché le strutture necessarie a bloccare questa drammatica situazione. Il timore generale è che la situazione peggiori ulteriormente nei prossimi mesi a causa della persistente siccità. E ora un breve commento del direttore Rainero Schembri. Dal 18 al 21 giugno si è svolta a Roma, al Ministero degli Affari Esteri, l'Assemblea plenaria del Consiglio Generale degli Italiani all'estero, massimo organo di rappresentanza, se escludiamo ovviamente le Abbaciate e i Consolati, degli italiani residenti fuori dai confini nazionali. Il compito principale del CGE, che ha come nuovo segretario generale Chiara Prodi, è quello di svolgere un'attività di consulenza per il governo e il Parlamento sui grandi temi che interessano le nostre comunità all'estero. Ebbene, nonostante che questa megastruttura esista da 26 anni, rimana ancora quasi del tutto sconosciuta al grande pubblico. Eppure il CGE si occupa direttamente dei 7 milioni di iscritti all'aere, la anagrafe degli italiani all'estero, e indirettamente dei 60 milioni di oriundi che spesso fanno riferimento alla nazione italiana. Ed è proprio per colmare questa lacuna che d'ora in poi Rea International, in coincidenza con l'insediamento della nuova Assemblea, intraprenderà una serie di servizi e interviste con autorevoli rappresentanti del CGE.